Buongiorno a tutti, Marcin Listoschi a vostra disposizione, prima domanda di Pasquale Marzotta della Gazzetta dello Sport e Mondo Radio. Buongiorno Marcin, auguri di buon compleanno per questi primi 24 anni e si aspettava in questo momento della stagione di ritrovarsi come l'elemento più incisivo del tridente d'attacco e proprio per questo rispetto allo scorso anno hai migliorato tanto, ti sei adattato, in quali movimenti ci sono delle differenze rispetto all'esterno che richiedeva il mister Corini con questo che richiede il mister Barone. Ciao, per prima grazie per auguri. Ovviamente sono contento adesso, in questo momento qui, lo sappiamo tutti che all'inizio di stagione non ho giocato tanto e forse avevo qualche problema con capire di sistema di gioco, perché sono giocatore qual è abituato per prendere sempre pala addosso, quindi quello penso che c'era di più grande problema, però dopo tanto tempo avevo parlato con il mister tante volte e lui mi sempre diceva cosa devo cambiare per giocare. Con tempo penso che l'ho fatto, vediamolo tutti, però lo so che ho ancora spazio per migliorare e voglio farlo. Gabriele De Giorgi, Lecce Prima. Marcin, da quando sei arrivato a Lecce noi abbiamo potuto vedere le tue qualità ma non fino in fondo, perché ci sono stati problemi fisici, le tue presenze non sono state continue. in questo periodo che immagino per te non è stato facilissimo, hai mai pensato di cercare un'esperienza in un'altra squadra oppure la tua determinazione era quella di riuscire a importi nel Lecce e poi dal punto di vista umano che tipo di ragazzo sei, come ti trovi in questa città? Sì, certo, l'anno scorso non era facile per me perché, come hai detto, avevo tanti problemi fisici, però è importante adesso che sto bene, sono sicuro che quando sto bene fisicamente posso aiutare la squadra sempre. Seconda domanda, qual era? Come ti trovi a Lecce, qual è la tua storia proprio dal punto di vista umano? Noi ti conosciamo poco. No, mi sono trovato dall'inizio benissimo perché Lecce non è grandissima città, però mi piace così e dal primo giorno ho sentito che Lecce ama il calcio e sto bene qua. Pierpaolo Verri, Pianeta Lecce. Tu giochi esterno d'attacco però nell'ultima settimana hai segnato tanto, hai fatto dei gol da centravanti possiamo dire di testa contro lo Spezia attaccando il primo palo a Como. È un aspetto sul quale lavori tanto quello di attaccare l'aria centralmente pur giocando laterale? Sì, certo, questa è la cosa quale posso dire che ho cambiato con il mister Baroni, lui sempre mi diceva che devo attaccare la porta perché lui dice sempre che fa gol questo quale non ha palone. Quindi ho sentito il mister e volevo cambiarlo e vedo ancora che posso crescere ancora di più. Alessio Amato, Calcio Lecce. Ciao Marcin, una cosa netta a livello delle tue prestazioni è stato il fatto che il cambio è avvenuto quando hai avuto praticamente la prima opportunità da titolare con lo Spezia, poi grande partita con la Roma e poi le ultime partite che sappiamo benissimo. Trovi invece qualche difficoltà quando devi essere magari schierato durante la partita per il finale perché c'è da cercare la vittoria, magari la squadra avversaria è molto chiusa per contenere magari il pareggio e poi un'altra domanda, come la tua opinione sulla partita, se c'è molta amarezza perché tantissimi tiri in porta non si è riusciti a vincere e se la sostituzione che ha avuto era più un fattore fisico, diciamo eri anche un po' stanco visto le tante partite che ha giocato titolare ora ravvicinate oppure magari il mister ha voluto cercare qualcosa di diverso? Sì ovviamente tutti i giocatori vogliono sempre giocare come titolari quindi quando ce l'hai più tempo durante la partita è sempre meglio però per me non è troppa differenza quando gioco come titolare o come come entro campo dalla panchina sempre voglio voglio fare bene aiutare la squadra. Partita contro il Como sì è peccato perché penso che abbiamo fatto bella partita, abbiamo fatto tante occasioni in quella partita anche il rigore alla fine di partita però adesso dobbiamo essere focalizzati per prossima e so che stiamo facendo bene e sempre puntiamo per far meglio. Ultima domanda Carmen Tommasi della Lama. Allora buon compleanno ancora, due domande hai fatto due gol di fila, ce li descrivi e secondo te qual è stato il più bello e qual è il più importante? E poi un'altra cosa io volevo sapere i più anziani presenti in Rosa che consigli ti danno? Ok prima domanda sono contento che ho fatto gol in due partita in fila e quale era più bella? Forse quello primo perché abbiamo vinto la partita e quello è importante. I giocatori con esperienza sono importanti per tutte le squadre. Anche in Polonia avevo tanti giocatori con esperienza e posso dire che prendo un po' da tutti quindi non è differenza che giocatore vecchio o giovane siamo un bel gruppo e stiamo crescendo insieme sempre. Grazie a tutti.